buongiorno e bentornati sul mio canale oggi un video un po diverso dal solito non andremo in natura ma nel gym in palestra ieri sera guardando un po su youtube ho scoperto una nuova channel che è passato da persone atletiche che fanno dei youtuber dei canali di sport anche a quelli outdoor in pratica di cosa si tratta di una channel che dura un'ora ed è partita dall'austria scusate dall'austria da un atleta che fa crossfit con mille flessioni in un'ora passata in germania da kevin volter e tobia san che sono entrambi due canali che seguo che sono dei bodybuilder professionisti questi pesano uno pesa 120 kg l'altro 100 quasi 130 dei manzi e uno è riuscito arrivare a 300 qualcosa poi si è chiuso il pettorale non andava più niente tobia san a 444 credo ha avuto problemi poi con il tricipite gli si è riempito di sangue finito e poi ha preso questa channel un youtuber outdoor fritz fritz non ricordo come si chiama di cognome fritz qualcosa che anche lui lo seguo per cui andiamo nel gym è arrivato nel gym anche siamo a cesnatico nel fitness club dream che mi hanno messo a disposizione una delle loro sala corsi intanto mi fascio i polsi perché credo che quelli qualcosa ne risentiranno bene alla cena alla fine del video comunque farò anche la nuova nomination e come detto consiste in mille flessioni in un'ora ovvio mille non ci arriverò mai io spero di arrivare a qualche centinaio regole corretto un'ora alla fine facciamo il più possibile le flessioni possono essere fatti come si vuole larghe strette sui pugni mano libera quello che è perfetto allora per tutto ciò abbiamo bisogno beh io preso il cellulare per il tempo e essendo che sono da solo carta e penna per segnarci le quantità che facciamo iniziamo bene mancano tipo 900 quanti flessioni allora 10 secondi in pausa sono andata in 5 minuti e 28 secondi già caldo già inizia anche inizia a mancarmi l'aria qui fa un caldo inizia a mancarmi l'aria qui dentro inizia a sentire anche il petto ormai alzano la flessione ok questo non sono 6 110 anzi 116 allora io mi sono preparato una bibita a base di magnesio così evitiamo poi a lavorare contro i grampi che stasera sicuramente dopo sta sezione li sentirò siamo a 150 ora inizia a sentire un po che vado su con i battiti inizia a sentire anche una delle due spalle che inizia a pompare un po troppo dai dai siamo a 150 in 11 minuti per cui ho ancora 49 dai dai non ci arriviamo però vediamo di fare il nostro meglio che idea di merda ah tosta 170 le lali ora abbiamo anche rinforzi qui motivatori 200 200 in 16 minuti 200 in 16 ti manca 2 quarti d'ora sì 95 non so se è fattivo non lo so neanche io dai guarda ma che invece di mille flessioni in un'ora dovrebbero chiamarsi balenotti stiaggiati e voglia di morire ciccioni ciccioni che si portano al limite dai non mollare non deve mollare ok mezz'ora siamo arrivati a 300 per cui abbiamo superato il numero di Kevin Volta che è il bodybuilder da 120 kg un animale ok lui ce l'abbiamo fatta ora io dovrei ancora mezz'ora per cui 144 dovrei farcela per cui becchiamo anche a Tobiasan vediamo un po' dove possiamo arrivare ora ora inizio a sentire inizio a far fatica con i 10 ho il tricipite che inizia a chiudersi oddio finito anche l'ossigeno adesso inizio uuuu 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 ma il petto che è durissimo non riesco più a aprire infatti inizio a far fatica a scendere non neanche più a salire uuuu 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 poi già possiamo fare dai i 400 bisogni che arriviamo dai ora siamo detto 350 350 ancora 18 minuti dai magari becchiamo anche 400 dai siamo a 49 e mezzo siamo 50 minuti sono arrivato a 400 ora non basta neanche più 20 secondi oddio petto che esplode il petto mi esplode sono arrivati 4 10 dai 5 ci arriviamo 90 persone sei fuori sto morendo voglio morire voglio la mamma voglio la mamma dai dai 10 subito dai 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 10 dai dai 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 1 2 fai salire da 5 invece da 10 spominciamo un po già faccio più io fai salire da 5 fai salire da 5 sto morendo un uomo distrutto dalla vita così sta finendo così dai facendo serie da 5 vai ci sei dai dai da 5 1 2 3 4 5 è un po' meno complicato da 5 dai 4 25 sono una femminuccia sono una femminuccia mezza sega 5 di prima 5 pausa 5 e poi aspetti un po' come si chiama la signorina di prima? la Francesca la Francesca ne farà meno il doppio di me dai 5 1 2 3 4 5 4 e 3 dai 4 e 30 adesso si chiama il tuo masco stiamo andando non ci arriva il tuo cielo mazzo 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 11 11 12 12 5 più 5 1, 2, 3, 4, 5 4, 6, 5 35 35 ce la facciamo 4, 5 5, non andiamo ancora giù cazzo finito 4 e 38 non arriviamo a 40 in 5 minuti 38 non arriviamo a 4 e 40? appunto, ci mancano due flessioni appunto mancano il 5 minuti ma che ve lo dico a fare? sono morto un uomo di strutto ammala Francesca sta facendo esplodere le casse nella sala di fianco ma cosa stai facendo? si ma questo però non mi aiuta che musica è? no dai no no hai un test che mette contro mettete la musica un po' allora allora Tobiasano ce l'abbiamo fatto siamo arrivati a 4 e 48 più che 4 più di Tobias mancano ancora due minuti noi c'era la Francesca che diceva di volermi aiutare guardate cosa sta facendo la Francesca Francesca che cosa fai? facendo stretching 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 ufff ufff Gli ultimi 5 secondi. Quattro. Siamo qua. Un'ora esatta abbiamo fatto 467 flessioni. Bene, sono distrutto. Il petto mi esplode, guarda qua. Per cui, adesso lanciamo la sfida a chi? Come prima? Alla... Dove siamo qua? La luce qua. Il padrone di casa, che è Alessandro Savini. Per cui, ti ho beccato. Della palestra Fitness Club Dream. Poi, sempre della stessa palestra di Fitness Club Dream di Cesenatico a Giove Giovanardi. Poi passiamo alla Carabini Box di Savignano Mare, Marco Rimuccioli e Marco Giunchi. Inoltre, Carabini Box di Savignano Monte a Greg. Per cui, un'ora, il massimo che potete. Ciao! Vaffanculo! 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 Grazie.